Musica Mi sono detta un cantante, un autore, un compositore che scrive certe cose e vale la pena incontrarlo. Cioè mi sembra un'anima bella tu, non nel senso di un'anima bella che sta sulle nuvole, c'è uno che ha delle cose da dire, dovessi dire chi sei, a parte nome e cognome, definisci. Niente di speciale. Tu ti devi raccontare, cosa dici di te? No, non sono niente di speciale, sono uno che insegue la vita con tutti i suoi dubbi, qualche risposta perché magari sono cresciuto un po' ma ho milioni di domande, quindi niente di speciale. Tenere vive le domande non è da poco. La maggior parte della gente non se le fa le domande. Sì, è vero, però poi alla fine arriva un momento che le domande ce le facciamo tutti, perché comunque tutto quello che si aspettava non arriva, oppure magari ne arriva una parte. Quindi credo che alla fine qualche domanda, magari non ce ne facciamo tante, però ce ne facciamo un paio importanti e da lì forse capiamo o forse non capiamo. Poi mi dici quali sono. Ma è vero che tu sei un tipo arrabbiato con la vita? No, sono stato da giovane ma non con la vita, con chi condizionava la nostra vita. Mai stato arrabbiato con la vita, anzi, tutto quello che ho scritto l'ho fatto per difendere la mia vita e la vita approfittando anche della musica, della comunicazione che riuscivo a fare, negli anni 90 soprattutto, per difendere anche la vita di chi mi ascoltava, di chi condivideva il mio pensiero. Hanno anche detto che sei una persona malinconica e ti hanno affibbiato un po' l'etichetta del sentimentale, soprattutto in certi anni. Non ti ci ritrovi, immagino? Ma è detto giusto, soprattutto in certi anni, perché quegli anni avevano la caratteristica di essere anni abbandonati un po' a loro stessi. Gli anni 90 sono stati anni terribili per le nuove generazioni, per la fuga di punti di riferimento importanti, di uomini, ideologie, la politica stessa, quindi tutto ciò che stava arrivando ha dato una botta incredibile di credibilità a tutto e quindi chi urlava e chi si arrabbiava ci doveva essere, anche nella musica che credo sia una forma di comunicazione importante. Anche i sentimenti, un conto è il sentimentalismo, un conto è il sentimento. Siamo pieni di canzoni sentimentali, non solo per il melodico, ma anche proprio come testi, però poi non vanno a fondo di quelle famose domande di cui parlavi prima. Ma perché fondamentalmente i sentimenti sono una forma di egoismo anche, l'amore stesso è una forma di egoismo. Io ti amo, quindi beneficio ad amarti e lascio in secondo piano il fatto che tu mi ami o no. Quindi l'importante è soddisfare i propri desideri. Questi sono i difetti più grandi dei nostri sentimenti, secondo me. Che poi trasforma i nostri sentimenti in un possesso, in una pretesa, no? Sì, in una pretesa, ma senza a volte nemmeno per forza voler cambiare la persona che sia davanti, ma solo il pretenderla ci dà un valore, secondo me, ci dà un'idea distorta del valore delle cose. Tu Marco hai la musica dentro fin da quando eri ragazzino, un ragazzino con la pianola, vero? Sì, io la chiamavo, è un organetto elettronico che mi regalarono i miei genitori. I famosi bontempi? Sì, quelle cose lì, sì. E da lì nacque subito un'empatia, un amore con la musica incredibile, perché comunque a quattro anni già fischiettavo un po' le cose che sentivo in giro e le sentivo in pochi posti. non era come adesso, che la musica si sente ovunque, ma si doveva cercare nelle giustrine che giravano, dove ci portavano i nostri genitori, perché altrimenti per la strada non c'era una diffusione così importante come adesso della musica. c'erano due radio statali e basta, e una televisione di Stato e basta, poi dischi e basta. Da lì ad arrivare a vincere Sanremo, a sbancare il mercato discografico, a firmare delle colonne sonore di film, a sfondare anche molto all'estero. Adesso sta iniziando un nuovo tour. Sei un ragazzo fortunato. Sì, assolutamente sì. Beh, ho avuto la fortuna di poter condividere tutte le mie emozioni con tanta gente. E oggi credo che la cosa più difficile e la cosa da evitare assolutamente sia la solitudine, sia un grande ostacolo per quanto riguarda il percorso della nostra vita. Senti, se io prendo una tua canzone che mi piace molto, che si chiama Caro Babbo, leggo in versi diversi prima dolcissimo e vero amico e poi irraggiungibile nemico. È il percorso di molti ragazzi adolescenti. Chi è per te, tuo papà? Guarda, io in questo tour presento alcune canzoni attraverso delle citazioni di autori importanti e forse è una delle più belle, autori importanti che ho letto durante la mia vita, ma che poi così in maniera direi assolutamente casuale ho ritrovato dare appunto una sorta di prefazione a certe mie cose che ho scritto nel tempo. Tra le più belle c'è una frase di un anonimo che dice ho sempre desiderato vestirmi da eroe, ma i vestiti di mio padre mi vanno grandi. e credo che sia questo, tuo padre, un'icona che rimane per sempre e quasi un mago, perché ogni genitore per me è un mago, nel senso che tutto ciò che ti dice nell'età soprattutto dell'adolescenza e dell'infanzia sia vera. Basta che tu la sappia leggere, nel senso che non devi guardare i dettagli particolari, ma devi soltanto leggere la metafora di quello che ti ha detto. Uno la capisce dopo. Assolutamente, sempre dopo. Senti, invece tua mamma, tu hai perso tua mamma da giovane, questo è un dolore grandissimo. Sì, perché fortunatamente l'ho perso da giovane e credo che quando la perdi da giovane una persona la perdi in un momento che sei ancora in tempo per rimediare. Però in tempo per arrabbiarti con l'esistenza. Hai tante distrazioni e vedi la vita ancora come un percorso talmente lungo e bello da poter intraprendere con distrazione. Quindi magari una cosa del genere ti fa male ma non ti segna e non ti condiziona. È chiaro che mia madre, vorrei rivederla anche oggi. Non è vero che l'amore cambia il mondo, dipende dall'amore. Dipende da che tipo di amore. Tu dici se è un ancora che ti trattiene giù o un sogno che ti tira in alto. Dipende dal tipo di uso che tu fai dell'amore, di quale amore tu hai bisogno. Se hai bisogno di un amore estrettamente egoista e quindi di un fabbisogno quotidiano per la tua fame da un punto di vista sentimentale e per la tua paura della solitudine è chiaro che un amore poi diventa strumentalizzato e quindi non capace di cambiarti e non capace di prendere il timone della tua vita. E di conseguenza se tu non cambi non riesci neanche a cambiare la tua realtà e se parliamo al plurale non riesci a cambiare questo mondo. Secondo me è un po' il fil rouge dei testi delle tue canzoni. Dovessi riassumere direi bisogno di amore. Che di tutti, però bisogna saperlo tirar fuori, saperlo chiedere anche. Tu dici che Dio non c'è e dici anche e ho bisogno di Lui. Un silenzio disperato dentro me grida Dio non c'è. È un grido che afferma una presenza? Anche una bestemmia afferma una presenza? No, secondo me la bestemmia… Va bene, a parte che è becera. La bestemmia è becera ma è anche un modo superficiale di affrontare il dolore, secondo me, ma anche un modo culturale perché la bestemmia fa parte della nostra cultura purtroppo e soprattutto dei toscani e soprattutto degli italiani. Ma il bisogno di Dio c'è, perché se questo mondo va a pezzi è normale che manchi un organo di controllo spirituale vero e che metta d'accordo tutti. Il problema è che il bisogno di Dio viene interpretato in mille maniere e quindi secondo l'uomo esistono più dei e questo secondo me porta all'istruzione. Eh sì, sono dei che sono il successo, il potere, la carriera, la bellezza… Ma anche di più. Sono idoli, non dei? Sono idoli e sono idoli mal interpretati e secondo me non assolutamente creati per gestire la nostra spiritualità. Hai conosciuto un sacerdote che si chiama padre Ernesto Balducci? No, non l'ho conosciuto personalmente però è stato per tanti un punto di riferimento e quindi per molti ragazzi ha anche un bisogno assoluto di ricerca di Dio. Io portavo anche negli anni 90 una sorta di croce francescana che si chiamava Tao, che era proprio la ricerca di fede. Io ho sempre cercato la fede, quindi credo che ricercare la fede sia anche un gesto di umiltà da parte di chi avrebbe voglia di credere in un aiuto importante e magari… E l'amore più grande che cerchi? Ma i tempi sono cambiati, i tempi sono cambiati e credo che l'amore più grande si possa trovare anche attraverso una grande ricerca dentro di noi. Secondo me un Dio lo si deve trovare dentro di noi e poi lo possiamo chiamare come si vuole, però Dio se c'è dentro di noi non sta dove l'hanno magari dipinto. Credo che sia giusto, è importantissimo trovare i valori di Dio e trovarli nel rispetto verso gli esseri umani, nel rispetto anche verso gli animali, nel rispetto verso la vita. Verso di sé? Verso noi stessi, certo. Anche se poi non si capisce come mai questa natura ha creato la vita in modo che una vita distrugga l'altra e quindi una catena alimentare e quindi una sorta di evoluzione. Lo scandalo del male, del dolore in tutte le sue forme, che non ha una risposta razionale. Non ha risposta razionale anche perché è spietata. Ma quello dipende da noi? Dipende da tante cose, questa è la mia risposta più sincera, dipende soprattutto dalla natura, è dall'inizio. La natura con la N maiuscola, quella matrigna, cattiva, ne parlava Leopardi? Sì, credo che ci sia stata tanta malignità, soprattutto nello scegliere il percorso di ogni evoluzione nella selezione naturale di Darwin, in tutto quello che è il percorso di crescita. Sì, un qualcosa di maligno si è presentato, sicuramente non siamo stati capaci di difenderci. Per questo c'è ancora più bisogno di salvezza, dico io. E ti dico anche che non ci credo quando tu dici gli ideali non vincono mai. Non ci credo quando dici che ci riesci a salvarti da te e che te ne freghi se ti perdi. Sono belle queste frasi, colpiscono, ma io non ci credo che proprio la pensi proprio così. E cito da Fino a tutta la vita che c'è. Ma si parla degli anni 90. Io credo che si possa anche cambiare soltanto uno stupido, non cambia idea. Quindi si possa cambiare idea e si possa aver fiducia anche in tante altre cose nella vita stessa, nella speranza e lo si faccia anche crescendo. Non si può rimanere legati a un modo di pensare che appartiene a un periodo completamente diverso. È come la musica di oggi, la musica di ieri ti ricorda quel momento, la musica di oggi ti ricorda questo momento. Che musica ascoltavi tu a 18-20 anni? Tutta, io la musica l'ho sempre ascoltata tutta. E ti piaceva di più cosa? Tutta, quelle belle mi piacevano di più di quelle brutte. Allora quali erano quelle belle? Quelle che ti parlavano, non solo che ti… Ma dai grandi cantautori italiani, da Battisti a Baglioni a Venditti, Renato Zero, per dire fino agli Eagles, fino agli Emerson Lake e Palmer per spaziare anche in una musicalità diversa, più elettronica, più all'avanguardia, fino ai Pink Floyd, fino ai Genesis, alle grandi canzoni, ai grandi gruppi, ai Getro Tal, alle novità, alle cose completamente… Cos'è la musica per te? Dovessi definire la musica? Ma per me è la vita, ma non potrei dire altro, perché per me ha un valore assoluto la musica, al di là dell'argomento e del testo, della parte letteraria di una canzone, la musica per me è importantissima. Ti fa star bene, ti calma, ti pone quelle domande di cui parlavi prima, ti apre un mondo… Mi fa stare con la musica, mi fa compagnia, mi fa compagnia sempre, perché io non l'ascolto e basta, io la scrivo anche, quindi scriverla dà qualcosa in più, è come non guardare una donna e basta, ma amarla credo che sia un'emozione assoluta che valga molto di più. Quando è che sei stato proprio felice e felice? Ma io credo che la felicità stia nell'inquadrare e vedere bene l'obiettivo della felicità, nel senso che quando l'ha raggiunta devi trovarne un'altra, perché comunque l'uomo è assetato. Sai perché ti chiedo questo? Perché volevo chiederti se eri felice quando avevi il massimo del successo, cioè ti bastava? No, non ero felice perché avevo il massimo del successo, ero felice perché ero incosciente, quando si è incoscienti si è felice perché non ci si rende conto di niente, quindi si è più felice. Alle volte però diventare coscienti significa anche farsi male? Appunto, quindi sicuramente ero più felice nel periodo dell'incoscienza, quando poi diventi cosciente ti rendi conto anche degli errori che hai fatto, cominci a analizzare, cominci a fare un bilancio, cominci a ritornare indietro e analizzare dove hai sbagliato, dove non hai sbagliato. Tu hai vissuto momenti difficili, momenti bui e proprio dopo un album che era una svolta musicale ma anche umana, uscita di sicurezza, per te era un momento importante, un momento di cambiamento che non è stato capito? Ma no, non è stato, è forse un momento di ricerca che non ho capito io, nel senso che gli errori si fanno, mica non sono sempre gli altri, sono sempre gli altri a condizionare la tua vita, sei anche te che te la complichi e ti metti in una situazione di impasse solamente perché hai sbagliato qualcosa, gli errori si fanno, io sono il primo a riconoscere, ne ho fatti tantissimi. Però il pubblico cambia anche, si pone anche a rincorrere sempre il pubblico, come è cambiato il tuo pubblico? No, rincorrere il pubblico è la cosa più sbagliata, bisogna rincorrere se stessi, la nostra vita, bisogna rincorrere le nostre sensazioni e andare di getto è distinto perché tanto non esistono segreti, questo non è un mestiere da fare con strategia, forse nel commerciale sì perché ci sono degli uomini apposta che si occupano della vendita, del mercato, ma questa è una cosa che a me mi interessa meno ovviamente, a me interessa fare delle mie emozioni, qualcosa da condividere con gli altri, trasmetterle, quindi devo pensare soltanto a questo, quindi essere sempre me stesso senza fare nessun tipo di strategia. Di strategia, però tu hai un sacco di gente che ti segue, ti segue da tanto tempo, hai un fan club nutritissimo, hai anche una responsabilità nei confronti di tutte queste persone che chiamano i tuoi testi, che le canticchiano, che le citano. Non me la voglio prendere, non me la voglio prendere perché credo che chi scrive le canzoni mi debba scrivere canzoni, non è né uno psicologo, né un dottore, né un santone, né un profeta. Un politico. Io mi sono sempre dimesso dai ruoli di profeta, l'ho fatto dagli anni 90, subito ho messo le cose in chiaro perché io non sono nessuno, l'ho detto all'inizio, non sono niente di speciale e come tutti gli altri inseguo la vita e cerco di carpire emozioni e di raccontarle anche agli altri. Esiste la sfortuna quando il pubblico non ti segue più, quando capitano momenti brutti nella vita oppure esiste il male, l'ingiustizia e il peccato degli uomini? Il male, l'ingiustizia e il peccato esiste in altre cose, io trovo il male e il peccato nel chi non ha rispetto per gli altri, soprattutto per le donne secondo me, ma per chi non ascolta un cantante, non c'è nulla di male ad ascoltare un cantante, anzi può essere giusto perché vuol dire che è arrivato un altro, un altro con un altro pensiero ancora più nuovo. Quindi tu non ti sei sentito tradito quando per certo tempo hai perso il successo che avevi all'inizio? No, no, io mi sono sentito a volte attaccato in maniera sbagliata, nel senso che si può tranquillamente non condividere un pensiero di un cantante, di un politico, di un artista, di un qualsiasi, però secondo me bisogna contrapporci a lui in maniera corretta, sportiva. Mi rispetto. Io sono per l'onore, nel senso che io mi batto con te, ma se si decide che si spara al 3, si spara al 3, non sparo al 2, sono sportivo sotto questo aspetto, sono leale e quindi amo la correttezza, quindi se mi attacchi mi devi attaccare con delle giuste. Tu da ragazzo rispondevi dicendo vaffanculo ed era un bel grido di rabbia. A quei tempi risposi così perché comunque in maniera corretta, se tu mi attacchi nel personale e ti rispondo con un'offesa personale che poi ho allargato a un grido generazionale. Se penso alla tua amicizia, alla tua vicinanza, per esempio a Francesco Nuti, mi viene da pensare che tu sei uno di pochi tradimenti, cioè che con gli amici ci stai fino in fondo. Sì, sì, no, no, poi in Toscana siamo tutti veri amici, nel senso che… Tutti, tutti adesso in Toscana, perché? No, nel senso parlo degli artisti, tra noi colleghi ci vogliamo bene, siamo cresciuti insieme, io, Pieraccioni, Carlo, siamo veramente cresciuti insieme negli stessi anni, infatti pochi anni ci dividono, sia d'età che di carriera artistica, quindi c'è un grande affiatamento tra noi, ci difendiamo e cerchiamo di essere sinceri l'un con l'altro, questo ci aiuta anche un po' ad avere un rapporto professionale obiettivo e non soltanto condizionato dall'amicizia. Perché avete fatto un concerto per Francesco Nuti? Perché li vogliamo bene, perché riteniamo Francesco presente e forse qualcuno non aveva ben presente quello che noi… Provavate per lui? Sì, proviamo, proviamo per lui e quindi abbiamo notato tanto amore da parte dei fan di Francesco e questo ci ha consentito di riempire un palazzetto dello sport da 10.000 posti in due giorni, senza manifesti, senza niente, soltanto con una nostra conferenza stampa e questo vuol dire che l'amore per Francesco è tanto. Noi siamo sempre stati, al di là dell'amicizia, tutti fan di Francesco perché quanto ci ha emozionato lui negli anni in cui partoriva un film dopo l'altro con grande innovazione, con una regia espressiva incredibilmente nuova, per noi era qualcosa di unico e quindi riuscire a essere stati noi questa volta, ad emozionare lui è stata un grande soddisfazione. Senti, parlando ancora di amore, hai dedicato una canzone molto bella al figlio che non hai avuto. Dici che gli avresti regalato l'infinito, è quello che desideri tu, in che senso? L'infinito che dà un padre, io credo che il senso di protezione che dia un padre non lo dà nessuno, credo che sia anche il momento più bello, quando diventi papà, cosa che io non ho mai provato, ma forse proprio perché come ti dicevo la felicità sta nell'inseguire la felicità e pensare di raggiungerla e il punto più alto della felicità sta proprio quando la stai per raggiungere ma ancora non l'hai raggiunta, quando sei a un passo da raggiungerla, quindi diventare padre credo che sia l'ultimo passo prima di decretarti definitivamente uomo. Tu hai detto l'amore non cambia il mondo perché tocca a noi cambiare intanto noi stessi, sembra, potrebbe essere anche una frase da cioccoladini, ma insomma che significato ha invece per te? Significato che è inutile dare la colpa agli altri, nel senso siamo sempre noi a decidere il nostro destino e decidere anche il destino di questo mondo, di questa società, se non riusciamo a trovare il vero equilibrio di noi stessi non riusciremo mai. Tu l'hai trovato? Assolutamente no, se no, non avrei scritto questa canzone. Sei uno di inquietudini perenni? No, 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 assolutamente, io non sono assolutamente dipendente dall'inquietudine, nemmeno da… No, inquietudine nel senso di movimento. Inquietudine esistenziale, no, casomai inquietudine tecnica, io ho un'ansia tecnica incredibile, nel senso a me spaventa tantissimo dover fare certe cose che magari non dipendono unicamente dal mio volere, ma sono condizionate da voleri di altri, questo mi spaventa un po'. Quando devo decidere per me stesso… Non è mica facile entrare nello star system con queste idee però. No, però sarà, non lo so, ma sono molto programmatore della mia vita, a me piace comunque programmare. Ma non ci si riesce a programmare? Nel tecnico sì, nell'emozione no, nel tecnico sì, credo che nel tecnico si possa, essendo ordinati si possa, e questo è anche l'ordine, credo sia anche figlio di una maturità acquisita, però essendo ordinati nel tecnico e nel logistico si può programmare tante cose, poi le emozioni quando arrivi a un passo dall'obiettivo finale, l'emozione che ti arriva all'improvviso ti cancella tutta la programmazione e ti presenta un suo scenario completamente diverso. Cos'è che ti dà più emozione? Piccole cose o le grandi cose? L'amore o un bambino che ti vedi? L'amore ci sono le piccole cose e le grandi cose, anche in un bambino ci sono le grandi cose perché secondo me da un bambino si impara più che… anche perché noi siamo destinati a tornare un po' bambini tutti perché poi più che invecchiamo e più che torniamo bambini più abbiamo bisogno di protezione, i nostri figli diventano i nostri genitori, in sostanza è questo. Quindi credo che le cose che mi trasmettono più emozioni siano le emozioni stesse vissute durante la vita e che ci commuovono perché troviamo la nostra fragilità in quell'istante e in quell'attimo. Tutti emozioni sul palco ancora quando sei a un concerto? Tantissimo, mi emoziono perché mi emoziona la capacità di restare freddo. Riesce a restare freddo? Altrimenti non riuscirei ad emozionare di altri, questo io credo che sia importantissimo, rimanere freddo su un palco è come rimanere freddo quando devi battere un calcio di rigore per segnare e dare la vittoria finale. Lucido in questo senso? Lucido, lucido sempre, è anche una questione di esperienza, una questione di mestiere, una questione di pratica, però credo che l'emozione più grande sia riuscire a essere lucido nel scorgere e rubare l'emozione di altri, questa sia un'emozione bellissima. Senti, tu a chi vorresti rubare? C'è qualcuno in particolare o una categoria di persone a cui vorresti rubare? Ah, chi ruba? Non ho paura, non ho paura, non ho più paura di me stesso e quindi credo di non avere più paura di niente, perché quando non hai paura di te stesso hai già fatto un piccolo passo oltre la collina. E che cosa desideri più di ogni cosa adesso? Ma adesso desidero continuare a desiderare, perché chi desidera vuol dire che ha speranza, chi desidera vuol dire che ha futuro, crede nella vita, crede nel futuro, crede in un senso di, in un ruolo da protagonista e credo che ognuno di noi ce lo dobbiamo costruire, perché se perdiamo la consapevolezza di poter essere protagonisti della nostra vita, perdiamo anche il senso della vita stessa. Se devi sceglierti una colonna sonora, la tua adesso qual è? È una tua canzone immagino? Ma in questo momento no, in questo momento io prenderei Futura di Lucio Dalla, anche se è una canzone, è un evergreen, è una cosa che a mio parere resta una delle più belle canzoni assolute italiane, che è forse a livello di significato letterario forse tra le più belle del mondo e della storia di un artista unico, un artista unico ma non perché è scomparso, un artista che secondo me ancora deve trovare un antagonista da un punto di vista tecnico, perché come cantava lui non ho più sentito nessuno cantare. Anche come emozionava lui, era un uomo di grandi pensieri. Un artista a 360 gradi ma ripeto, a livello canoro io credo di non aver sentito nessuno in Italia arrivare a quei livelli. Nascerà come la fede che vorrei la mia preghiera? Secondo me è già nata, è così? Ne hai tante? Ma le preghiere nascono appena nasci, nel senso che si va subito alla ricerca, si piange, quindi si va alla ricerca di una consolazione, la preghiera ci aiuta anche a essere consolati, la consolazione è una cosa molto importante, perché quando anche non riesci a fare, queste sono anche parole di Vasco, quando non riesci a fare qualcosa per qualcuno però già riuscire a consolarlo, a dargli un po' di speranza e di fiducia è già qualcosa in più, è già molto, è tutto praticamente. La preghiera è tutto, soprattutto quando si ha bisogno di trovare una verità. l'importante è non andare alla ricerca di una preghiera per convenienza, è una preghiera che poi sfoci nell'inutilità e nell'egoismo e basta. Allora buona vita. Grazie. Buon tour ma soprattutto buona vita. Anche a voi, grazie. E ascoltiamo Futura. I russi, i russi, gli americani, no lacrime, non fermarti fino a domani. Sarà stato forse il tuo nome, non il meraviglio, è una notte di fuoco, dove sono le tue mani, nascerà e non avrà paura il nostro figlio. Grazie. Grazie. Grazie.